Oggi vi faccio vedere come è semplice montare la micro bici. E' più per emergenza, però mi piace perché come vedete lo posso tenere sempre con me anche nella Frank della Tesla. Allora, qui si incomincia. Prima si apre lo frame e si fissa con questa chiusura veloce. Poi la prima ruota dietro, che va fermato, che non può girare. E la ruota davanti, che va lasciato aperto, che si può stiazzare, però la ruota stessa va fermata. Certo? Mi sono dimenticato a farlo dietro. Allora cerchiamo di rimediare. E come vedete io lo faccio ora per la seconda volta e se sarebbe intera anche più semplice. Però, fatto. Ora, per stiazzare, si prende su questo un'altra chiusura veloce. Si apre per testa a sinistra. Dentro un click. Ci siamo. La sella. E adesso... Pronti. E certo... Via. Buona giornata. Eric. E'